Per chi come me lavora nella comunicazione è impressionante vedere con quanta attenzione e anche a volte forme di ossessione si seguono i temi dell'istruzione, dell'educazione e della scuola e in altri casi con quanta distrazione se ne vedano i problemi reali. A mio avviso alla scuola noi chiediamo insieme troppo e troppo poco, chiediamo troppo poco quando accettiamo che la struttura della scuola, dell'insegnamento, delle lezioni, dell'istruzione rimanga pressoché mutata nonostante le enormi trasformazioni nel campo delle tecnologie e della comunicazione, viceversa chiediamo troppo quando chiediamo come accade alla scuola di occuparsi di problemi dei quali la scuola sola non può occuparsi, compreso il grande problema della diseguaglianza che certo la scuola è uno dei grandi strumenti con cui si affronta la diseguaglianza, si rimette in moto quel movimento della società che non è solo un valore di equità o di giustizia ma una risorsa che ogni società disperde per non seguire tutti i suoi giovani, anche quelli che partono svantaggiati. Gli chiediamo troppo quando sostanzialmente tutti i grandi problemi relazionali che le giovani generazioni hanno con la società si scaricano con le scuole e le stesse famiglie a volte li scaricano nelle scuole. Gli chiediamo troppo quando vediamo che il problema principale dell'istruzione è la sfiducia con i quali i giovani oggi la vivono perché non pensano sia più una risorsa necessaria per affrontare la società non solo dal punto di vista del proprio successo personale ma della costruzione di reti civili, dello spazio pubblico. Questa sfiducia è un problema molto generale, è un grande problema del nostro paese e di tutte le società occidentali. Affidare la scuola, colpabilizzare la scuola da questo punto di vista è ingiusta ma non è nemmeno giusto abbandonarla. Dunque è giusto che tutti i cittadini, perché la scuola è un bene di tutti i cittadini, non solo dei milioni di studenti e insegnanti o di genitori via via coinvolti nell'istruzione. La scuola è un grande tema civile e quindi è giusto che tutti ci occupiamo. Vorrei che lo facessimo rispettando i propri ruoli, quindi non invadendo quelli altrui ma nello stesso tempo mettendo in discussione anche le proprie convinzioni.